Rimanati, è ora. Dobbiamo passare al contrattacco. Tutti danno per certo il cavolo di Regina. Non resta che una strategia di sopravvivenza o l'esilio. Chi è lui? La rivoluzione è morta, Cuba. E poi vedete come la pica questa cosa? Il capitalismo non è la soluzione. Lui che dice? Resiste. Hai visto che ti ha sfitto comunque? Estimato comandante, Gorbaciov si sta completamente calando le braghe di fronte alle richieste Yankee. Lei, ormai unica e solo baluardo socialista nel mondo, sarà il prossimo bersagno. Stati Uniti d'America! Oh, mi sono sporcata! Tu qua stai, disgrazia! Questa è la vittoria comandante. Sempre! Mio marito è pazzo, come una cocuzza. Vedete qua, l'ha scritto pure sopra il foglio. Ispettore, io non sono pazzo. Io sono un confidente di Fidel Castro. No. E il mio dovere è essere vicino a lui, al popolo cubano in questo momento terribile per il socialismo mondiale. Un sogno americano, quello è la cosa. Io voglio la motocicletta mia, bruttostrosa. È sempre quella la questione, il bil denaro, capitalisti! Oggi a Cuba si festeggia, lo sai perché? No. Per commemorare la morte di Ernesto Guevara, ho detto, c'è! Lo sapete? No! E se mai ti ricordo come era nel Maradona? 3 ottobre. Il 1916. Per me ti ricordo? Che percoglio! C'è chi è che vorrà? La fai sempre a pere, eh? Chi può mandare? E ci russa con me. Siamo comunisti.